Moreno Veschi, lei è stato assessore all'ambiente nella giunta Burafatto, all'epoca in cui proprio il sindaco Burafatto decise di chiudere la termocentrale perché aumentava la temperatura del mare con lo scarico a mare. Oggi lo scrittore Maurizio Maggiani ha lanciato l'idea di conservare l'ultima ciminiera della centrale a scopi, diciamo così, turistici. Lei è favorevole o contraria? No, favorevole. Poi vanno viste tutte le condizioni, va approfondito il problema, ma sarei favorevole all'idea di Maggiani. E perché? Perché bisogna lasciare un segno di quale è stata la vicenda Enel e dei sacrifici anche che ha fatto la città nei confronti di una centrale che aiutava lo sviluppo nazionale, ma era un grande sacrificio per gli spezzini. Questo ricordo va fatto, non voglio fare esempi negativi tipo andiamo a vedere Zaccawa, però anche quando c'è stato il male, o ci sono state delle lotte e così via, va ricordato. Ecco, Vesi, quando era amministratore di questa città, la città Spezia era una città operaia, oggi siamo diventati la città dei camerieri che il sindaco Aldo Giacchè paventava allora. Lei come ha vissuto questa metamorfosi da comunista o da ex comunista? L'ho vissuta male perché mi sono formato in una cultura industrialista, diciamo. Sono stato per tanti anni il responsabile fabbrica del Partito Comunista e del PDS, ma poi sono preoccupato anche perché si indebolisce la comunità. Tutto non può essere il turismo, cioè non possiamo diventare soltanto una città di turisti e di lavoratori precari, diciamo. È un modello di sviluppo, non sono contro il turismo, anzi sono per qualificarlo, ma è un modello monoculturale turistico dove tutta l'attenzione è concentrata da parte delle amministrazioni sul turismo. Non penso che sia una scelta sbagliata. Bene, l'intervista completa a Moreno Veschi questa sera alle venture 30.